Bella vecchi trabani, siamo in grana, siamo tornati con un nuovo episodio di minecraft, attenzione dopo tanto tempo, torna Come avete visto nell'episodio di Frax precedente, per chi non l'aveste visto, nelle note o in descrizione ci stanno i link per andare a vedere l'ottavo episodio Perché questo qui è il nono, e come avete visto è successo tipo che ci siamo, è successo un casino con i file, quindi dobbiamo ripartire da qua Vabbè, però ci siamo, sempre più forti che mai Prima di cominciare, volevo dire una cosa Allora, nei commenti ci avete consigliato di scaricare l'Optifine L'abbiamo fatto, però non è che sia migliorato molto, adesso lagga un po' di meno, ma lagga comunque un po' Quindi, regà, non ve lamentate, il computer è quello che è E soprattutto, regà, un'altra cosa, praticamente io con tutto il bene del mondo, però io non posso registrare sempre io la visuale Perché è un po' complicato, perché devo caricare praticamente un video al giorno tra il mio canale e quello loro E quindi per me è un bello sforzo e quindi loro devono per forza registrare la loro visuale Però spero che capiamo Lagga un po' ancora, lagga un po' ancora, però Abbiate pazienza, fateci pace e godetevi di più i video sul mio canale che su quelli dei grani agnelli L'obiettivo di oggi è andare in miniera, praticamente Sì, io già sono in miniera Ok, sto raggiungendo Anch'io Perché avverto? Eccomi Ovviamente non ho preso i picconi Però sciala Tanto qua è pieno, è pieno qua Non è vero, ce n'è uno solo Vabbè, te ne lascio un altro, perché ce n'è un altro di pietra Oh, che pare, non mi ha laggato mai, momma, mi ha iniziato a laggà Ma davvero? Sì Se sentite un trapano in sottofondo è perché dentro questo cazzo di palazzo fanno i lavori a tutti i giorni, a tutte le ore E ormai da due mesi Quindi Però comunque non dovrebbe essere un problema perché c'è nel canale dei vecchi trapani C'è un trapano C'è un trapano Sta laggando tantissimo Guarda, un creeper Mongoloide Esploso Grazie, aiuterai Per la nostra miniera, insomma Nel tunnel Nel, la 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 Nel divertimento La 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 la, sì Oh, parco 2 Cos'è successo? Eh no, sto a strillare quelli che stanno Ai trapanacci Ai trapani, sì Ma non te la pia la Perché non me la pia? Perché, aspetta, aspetta Perché devi trapanare sopra, capito? Devi andare proprio al fulcro All'inizio Eh, lo vedi, guarda Devi andare là sopra Ho preso, ho presa Hai presa? Sì E prendi un altro Eh, c'ho solo questo Ma come? T'ho dato due, te ne ho dati Uno me ne hai dato Te ne ho dati due Quando mi hai dati, scusa? Te ne ho tirati tutti e due insieme, da Vabbè, allora vai a fare Aspetta Fai un buco qua Fai Eh, se te l'hai vita Aspetta Così deve essere Come? Un po' più grosso Un po' più grosso? Un po' più grosso è, meglio è Oh, un altro slime Vado io, vado io Ho la mia spada di diamante Ciao slime Mori Ma davvero devi far prendere fida Ma è una svolta, eh Aspetta Bello Non te la fa più prendere? No, no, non l'ho presa Mi sa che mo' è finita, però Eh, ce ne sta ancora, là Devi far, devi far ogni cubetto Oh, dai, la sai, la così la butti, eh No, sto far in modo che poi diventa piatto Diventa una tavola Eh, no, te la fa prendere, comunque Cioè, bisogno che io commenti ciò No, lo sai qual è l'unica cosa che si è bruciata? Che cosa? Il secchio Quindi tutto il resto ci sta? Che cosa c'avevi? Eh, tutto il resto C'avevi solamente arnesi Oh, vaffanculo, vaffanculo Ma raga, è un deficiente Ma non so, è un deficiente Non si prende se non mi avvicino Ma raga È un deficiente Che palle, oh Che passi il biscottino? Vabbè, comunque, tocca prendere un'altra cosa Qua ci ho messo l'acqua Vado a prenderla di qua Lava E questa qua Mi sa che non ti fa più piano Di qua, dai, fermate Dietro vedo una figura Sullo sfondo Eh, qua c'è stava la lava Occhio, eh Eccola Così non la posso prendere No, cazzo Eh, se infatti tu mi scavo Bravo Sono un idiota Come di qua sotto c'è la lava Ma davvero? No, 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 no Spera, quella di prima Eh, no, però se c'è sta il pozzo È buono, eh Eh, non è, non c'è il pozzo Ah, niente Aspetta, perché io c'ho paura a bucà qua Perché piace la lava Oh, ma che cazzo? Che è? Ma che cazzo? Che è? Ma, c'è uno spawn dei mostri Ma davvero? Dai, è buono Lì c'è stanno i chest Ottimo Le, 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 levate, levate Vado a ammazzarli tutti Ma non è uno spawn, però Eh, non lo so Ma, oh, è pieno, era pieno dei mostri Che cazzo stanno a fare così, random? Aspetta un po', forse state qua No Dai, porca puttana Ci ho creduto, vaffanculo Eh, pure io È fastidiosa la lava Passamoglie Eh, altra lava Oh, porca, levate, levate, levate Lavate, lavate Mamma mia Oddio, oddio Oh, eh, da, semmo cercate di rilassi incastrati qua Vai, vai, tranquillo, ho fatto una chiedoscita Dai, la faccio qua al buco Eccola Eh, vedo, eh, si è illuminato, vuol dire Ecco, levate Ma fa prendere, ok, però qua non cade, aspetta Ok Ok Ok, aspetta, aspetta, aspetta Occhio, occhio, occhio Cosa? Sta qua Eh, è, è, lo so sta qua Eh A cosa, 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 cosa Piacqua, 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 piacqua qua ma da dove? da qua oh ma fa prendere ma fa prendere ok ma da qua a dovrei prendere in teoria occhio 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 eh aspera tanto non mi sa che non muoio spero che non muori no non sono morto perché ho l'armatura che hai modo che si apprendila da qua aspetta fammi mangiare recupero un po di vita in compenso guarda il ferro che c'è ti do ti do qualcosa ok dammi un po il ferro no lo sai che non è uscita questa miniera se non mi dai il ferro aspetta aspetta o finisci di entra la lava o ti ammazzo io se non mi dai il ferro eh un attimo fai raccogli pure questo qua guarda quanto ce n'è da che te te lo da tutto il ferro che hai non c'è niente dammi il ferro va bene tutto t'ho detto è tutto tira il blocchetto è tutto t'ho detto da t'ammazzo ce n'hai uno ce n'hai uno in mano lo vedo ce lo sto tirando vabbè da io adesso ti ammazzo ti ammazzo un attimo ti è sento mateus che ride da tre ma non sta ridendo due non sta ridendo non c'ho più niente veramente nooo ecco grazie per il ferro che non mi ha evitato tutto tutto c'è c'è una c'è una degli altri quattro che penso che si è dai ma me va un cappuccio almeno no cappuccio e corneto aspetta un secondo da ok sempre che non mi ammazza ok se fanno una cesta segreta nostra così non ci senti vai ok ci risuono allora che poi che cazzo che cazzo faccio così e farò vedere bisogno eh dai io lo so anche più dicevi tra? eh ora ti risento ok allora oh ma no rega io devo capire dove cazzo esce tutta la strada io sto facendo una cosa importante eh ucciderti o prendere il ferro sto facendo una cosa importantissima vabbè rega io ci rinuncio a più alla lava sti cazzo addio ok fatto cosa stai facendo da? ho fatto no sto raccogliendo i cosi i semi te stai a fare l'armatura col ferro ma che c'era il ferro ma hai tolto tutto eh sto raccogliere i cosi i carote i cereali e i cazzi vari ucciderti ma che cosa perché ti ammazzo? eh ammazzami intanto sto raccogli pure per te eh sto a far pane cioè io ti ammazzo e poi non mangi però lo so però tu mori tu mori tu mori tu mori ma devi fare una bella cosa io sto a far letto no voglio che si raccogli un po' desti alberi io sto a far letto niente un uomo mongoloide ma te? no io sto a far letto come sto a letto? ok un letto possiamo farlo ma solo uno ma dovevo farne per forza tre? eh in teoria si perchè non possiamo dormire tutte e tre in contemporanea così e quindi ragazzi per questo episodio tutto abbiamo trovato comunque un po' di ossidiana l'abbiamo fatta abbiamo fatto tipo noi abbiamo quattro pezzi dobbiamo arrivare a quattordici per fare un portale e niente ha laggato molto me ne sono accorto scusateci per questo ma dal prossimo episodio tranquilli che migliorerà sicuramente porco due se no non lo mettiamo quindi al prossimo episodio bella bella ragazzi vecchi trapani ah e ovviamente il prossimo episodio è sul cane frax bella ragazzi vecchi trapani bella